Blood Stories, un film veramente dell'horror. Prego! Sono il piccolo Owen e mi sento molto solo qui nel freddo di Los Alamos. I miei coetanei mi mattarattano... Mattartagli, te credo! Per favore! No! Per fortuna ho conosciuto una ragazzina gentile, simpatica. Sì, certo, è una vampira, ma ogni donna con una carta di credito lo è. Oh, battuta sessista, vergogna. Ciao, sono Ebby, carina e simpatica, ma ho bisogno di sangue, sangue, sangue di Tremonti. Ho un falso padre che mi procura le vittime. È lui, è lui il falso padre. Salve, sono il finto padre di Abby. Sì. Devo procurarle il sangue di continuo. Ho provato a darle del San Giovese, ma se ne accorge. Se ne accorge. Sì, mi accorge. La mia Abby se n'è andata e i bulli ricominciano a darmi fastidio. Come la creatura. Ma eccola, Abby torna e mozzica tutti. Abby, starò con te per sempre. Che cosa ti preparo per domani? Un garaggista? Un tabaccaio? Una bidella? Voi ne state tutti qua. Sì. Perché avete realizzato un corsa. Adesso ne facciamo fare altri cinque, sei. Ecco, grazie, bravi.